Noi partiamo dal dato, nessun vincitore, quindi non c'è un programma e uno schieramento, ricerca di una possibile maggioranza tra i quattro che sono andati alle elezioni sostanzialmente. A questo punto cosa interviene in questi giorni cosiddette di stallo? La prima cosa è una vicenda internazionale che non crea nuovi problemi, perché i temi della Siria esistevano anche prima, anche lo stesso utilizzo di armi chimiche c'era, lo scontro tra Russia e Stati Uniti c'era anche durante la campagna elettorale e anche nella prima fase delle consultazioni. Che cosa c'è di nuovo? Che questo ha scoperchiato un istante i problemi che ci sono sotto, quindi all'interno del centro-destra ci sono opinioni anche diverse su come affrontare la crisi. Seconda questione, si chiede un governo autorevole che possa trattare in questo momento sulla scena internazionale, ma un governo non è autorevole perché ha numeri e se ha una politica forte, chiara, soprattutto credibile, e quindi il problema che si pone non è fare una qualsiasi maggioranza, ma fare una maggioranza che abbia all'interno una forte indicazione di linea politica e che sia credibile. Questo è il punto, perché si conta a livello internazionale se uno, quando un governo dice una cosa, sa di avere dietro una maggioranza, sa di potersi impegnare su quelle cose e allora diventa autorevole in quella direzione lì. Ultima cosa che vedo in movimento, questa realtà di movimento all'interno del centro-destra, che ha posto problemi con 5 Stelle, non è che non abbia posto problemi con 5 Stelle, toglie finalmente un alibi al Partito Democratico, il quale ha detto io non mi impegno, vediamo loro cosa possono fare. Adesso, per senso di responsabilità nazionale, il PD che fa politica deve scendere in campo, non può più stare alla finestra e soltanto aspettare che gli altri decidano. Sulle questioni che sono sul tappeto, il PD deve venire fuori e assumere una posizione politica, cioè deve dire qualcosa. Ultima cosa, non c'è un governo del Presidente, non esiste un governo del Presidente che non sia un governo di una maggioranza. Quando si fa riferimento a Monti, per esempio il più recente, si dimentica che quel governo, tutti i suoi provvedimenti sono stati approvati dal Parlamento, ha avuto. Quindi non era un governo del Presidente realmente? Era un governo che era politico anche quello? Era politico quello, perché fu una scelta politica quella di votare quei provvedimenti. Ma quale soluzione vede profilarsi lei? Si è messo in moto, a mio avviso, un processo. Si è messo in moto nell'interno del centro-destra, si è messo in moto nel rapporto tra centro-destra e 5 Stelle, si è messo in moto e sta pressando il Partito Democratico, che non può continuare a fuggire di fronte alle sue responsabilità dicendo muovetevi, è chiamato in causa, perché c'è una difficoltà di formazione alla maggioranza. E loro sono stati votati non per andare all'opposizione, loro sono stati votati per governare e quindi devono assumersi le responsabilità. Questi sono i dati di movimento. Io credo di questi il Presidente della Repubblica dovrà tenerne conto. Non è che come si era chiuso il secondo round al Quirinale e ci sono queste cose che spingono il Capo dello Stato ad andare fuori. A fare qualcosa. Sicuramente hanno spinto... Un preincarico, una soluzione di rivedere un minuto più a fondo queste cose e ci dovrà essere. Quindi entriamo in una fase in cui si comincia progressivamente a stringere. In questo senso io dico che c'è un movimento.